un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele scusate il rito perché è il quarto video che faccio oggi il secondo mi si è bloccato il telefonino ho dovuto fare due parti della base premium da numero 12 parlo di Ironman e adesso sono qui che è sempre il primo dell'anno auguri ancora a tutti ragazzi devo chiedere gli straordinari ma chi mi paga non mi paga nessuno non riesco neanche a prendere i soldi delle luci led che consumo va bene a parte gli scherzi guardate ragazzi questo è il primo numero del superlandini che è uscito in edicola questa settimana scusatemi è un'edizione della chette è un modellino di un leggendario trattore italiano del 1984 pioniere delle macchine agricole moderne è in scala 1 a 8 la cosa bella però ma lo vedremo anche dopo meglio nel dettaglio è che dietro c'è anche l'aratro mono vomere il vomere è questo qui che appunto produce il solco nella terra essendocene solo uno si dice mono allora andiamo subito a vedere innanzitutto la prima uscita costa 50 centesimi allora ruote sterzanti sulla sala anteriore oscillante quindi vuol dire che oltre a sterzare le ruote fanno anche questo movimento qui proprio come il trattore reale tecnologia di e-cast per le parti in metallo ecco sì vediamo i finti rivetti qua sono fatte molto bene vedo anche qua il pianale zigrinato il pianale dove appunto c'è la salita del coltivatore insomma del contadino e poi andremo a vedere meglio questa immagine qua dell'aratro io ho dato già un po' un'occhiata mi sono letto un po' qualcosa e devo dire che è molto bello cosa vi devo dire ripeto forse più o meno le stesse cose ma lo farei lo farei ma la disponibilità dei soldi ragazzi è sempre quella guardate vi avvicino un po' il telefonino così lo guardate meglio nel dettaglio allora qui non leggo vi faccio leggere a voi se avete piacere guardate comunque solo le immagini belle che belle che sono adesso poi le riprendo meglio questa è la seconda uscita tra due settimane sapete che le prime uscite escono dopo due settimane poi si regolarizzano e vi arrivano un'uscita settimanale come anche per chi poi sottoscrive sia l'abbonamento che evidentemente se ci fosse il premium anche il premium adesso non credo che sia questo il caso perché non credo che qui sia disponibile l'abbonamento premium ma lo vedremo dopo e quindi dicevo anche con l'abbonamento vi arrivano due numeri alla volta poi dopo tre uscite se non sbaglio massimo quattro ma forse anche prima vi arrivano quattro uscite la collezione è composta comunque da 75 uscite il prezzo della seconda uscita è 5 euro e 99 e le uscite successive sono 10 99 per quindi per capirci sono 750 più 75 sono 825 euro 825 euro diciamo che con 830 euro si finisce e Michele mi direte non è poco bene ragazzi non è poco però è un modello in scala 1 a 8 tra l'altro è anche provvisto di basetta sotto poi andremo a vederla e io non avrei 750 euro oggi da acquistare un trattore magari anche più rifinito di questo però questa è in scala 1 a 8 ragazzi è molto grande ed è molto pesante e quindi chi non ha la possibilità economica oltre ad avere il piacere di montarselo questo modellino se lo può anche pagare comodamente perché diversamente ragazzi magari per molti di noi almeno per me diversamente non sarebbe possibile quindi ecco molti fanno la battuta ma paghi gli interessi alla fine per come ti costa il modello quasi te lo compri nuovo sapete queste battute un po' da stadio beh ragazzi io sto facendo Ironman sto costruendo la Ford Gran Torino di Starsky Hatch la Citroen due cavalli ma se avessi dovuto acquistarle tutte insieme non ci sarei mai potuto riuscire non ma non ci avrei neanche pensato ok quindi ecco è giusto anche dire secondo me almeno per come la vedo io che la possibilità che ci viene data di acquistare questi modelli non è anche cosa da poco poi abbiamo il volano con frizione puleggia questo qui il radiatore a tubi verticali allettati a ventola la calotta del motore testa calda perché sì questo è un modello che veniva definito testa calda perché per poterlo accendere aveva necessità di una lampada di accensione che veniva preaccesa prima e il motore testa calda superlandini si scaldava mettendola qua sotto ma magari poi andiamo a vederla bene qua c'era un buco c'è un buco questo è se non sbaglio il radiatore dell'acqua non vorrei dire stupidaggini ma poi andremo a vederlo qui abbiamo la seduta riprodotta nei mini particolari va bene andiamo subito a vedere cosa ci danno in questa uscita andiamo subito a vedere appunto cosa troviamo nella prima uscita eseguiremo il semplice montaggio perché ci sono pochi pezzi ma sono molto pesanti e poi parleremo nello specifico di quello che è l'abbonamento di quelli che sono i premi o comunque le offerte che l'ascette offre per gli abbonati e quindi allora ruota anteriore pensate la ruota anteriore quanto è grande ve lo dico subito la ruota posteriore è ovvio che è più grande ma la ruota anteriore misura 11 centimetri che per i nostri amici americani e inglesi questa è la misura pensate quanto è grande solo la ruota anteriore e il peso non lo vogliamo andare a vedere ragazzi il peso di questa ruota guardiamolo rido perché io peso tutto chi mi conosce lo sa ma a me fa piacere così avete anche l'idea della consistenza di un pezzo solo questa ruota pesa 134 grammi che per i nostri amici americani inglesi questa è la misura ok quindi abbiamo la ruota anteriore la cassa dell'acqua guardate che meraviglia la scritta è fatta veramente bene devo dirlo ragazzi veramente bene non c'è una sbavatura non c'è una sbavatura guardate che bellezza tutta in metallo come la ruota questa è la cassa dell'acqua poi abbiamo anche questa tutta in metallo andiamo a pesare anche questo ma sì andiamo a pesare anche questo ragazzi 93 grammi e per i nostri amici americani inglesi questa è la misura quindi 93 grammi più con questo siamo già a due etti 25 grammi diventerà veramente pesante questo modello poi andiamo qua abbiamo due scomparti nel sacchetto uno dove c'è questa spina qua che è la molla per la chiusura del coperchio e il perno per la chiusura del coperchio guardate che bello queste cose quanto mi piacciono a me guardate perno in metallo molla per la chiusura del coperchio poi abbiamo questi due pezzi in plastica dove questo qui e il coperchio per l'imboccatura dell'acqua e il 4 e il filtro per l'acqua ok quindi giriamo la nostra bella pagina qui ci dice quello che ci serve poi vi farò leggere sapete che io alla fine faccio do la possibilità a tutti per colori quali sono interessati anche ai contenuti della scrittura dei fascicoli di poterli leggere ok ragazzi quindi adesso vado avanti così per quelli che sono i meno interessati alla lettura poi però andremo nel dettaglio nella seconda parte sequenza di assemblaggio allora andiamo a prendere questo lo mettiamo come in figura questo ci dice di metterlo così quindi uno e due sì così perfetto sono solo due pezzi figuriamoci se c'erano 7 8 quanto ci mettevo a montarlo così Michele va così non ti sbagliare Michele ok guardate voglio solo vedere se combacia bene al di là della spina si combacia bene abbastanza bene mi piace mi piace questo modello quanto mi piace non lo so se riesco a farlo ragazzi non lo so per il motivo che vi ho detto poi andiamo a prendere questo lo mettiamo così e inseriamo da questa parte il perno come questa figura ci fa vedere non voglio rischiare di romperlo perché il perno è in metallo ma il tappo in plastica mi aiuto con le pinze ok ecco qua perfetto guardate che bello a questo punto mettiamo anche la molletta andiamo a recuperare la nostra bella molletta vediamo se si è fatta uguale andiamo a inserirla come ci dice nella figura quindi così vedete dalla parte che si apre io tengo la molletta e la inserisco qua nei suoi fori dedicati uno e poi andiamo a provare l'apertura e la chiusura allora fatemi vedere perché ah è proprio duro così e ragazzi caspita se è duro mamma mia pensavo che andasse soltanto su così e basta ma è proprio duro da chiudere penso come quello vero comunque ecco questo ovviamente impedisce l'apertura e questo lo permette a questo punto prendiamo questo e ci dicono appoggiate senza incollarlo il filtro completo di coperchio alla cassa dell'acqua con la molla posizionata sopra il coperchio il filtro resta chiuso quindi andiamo a posizionare in chiusura il filtro qua non potete sbagliarvi perché avete avete una lavorazione su questa plastica che poi vi fa fermare la molla quindi in più in più su non potete andare io provo a girare semplicemente al contrario la molla cioè la metto al contrario pur sembrando speculare perché mi gratta un po non so se si vede mi gratta un po la plastica qui allora proviamo a girarlo al contrario e vediamo cosa succede se vi si allarga un po la premete e lei si stringe non vi preoccupate ecco qui andiamo a vedere cosa succede se è meglio o peggio meglio ok quindi andiamo a posizionare mettiamo questo così e questo va messo così ci dicono di non incollare nulla di non legare nulla guardate che bello lo so sono due semplici pezzi ma è bello è bello allora il montaggio termina qui questa questo telefonino che mi manda sempre fuori immagine l'inquadratura vabbè allora andiamo a vedere ma abbiamo finito volevo farvi vedere qualche foto le riviste poi le guardiamo dopo ragazzi all'interno allora questa è una bellissima immagine di un trattore vero ecco guardate io adesso tengo il telefonino con la mano guardate l'aratro che bellezza dimensioni modello con la base 83 di lunghezza per 33 di larghezza e per 23 centimetri circa di altezza guardate che bello con la basetta non so se riesco a farvelo vedere meglio guardate che bello è vero manca la vetrina sopra però è bellissimo allora questo lo abbiamo già visto prima avvicino un po aspettate ragazzi però ve lo faccio rivedere meglio forse così così leggete anche voi ok ok queste sono le caratteristiche tecniche di quello vero se avete piacere di leggere e questa invece è la storia diciamo in sintesi della sua riproduzione in modellino allora ecco questa è una cosa veramente è stata una cosa una scoperta pazzesca da parte del signor Giovanni Landini perché ripeto questo faceva uscire una fiamma da qua sopra che andava all'interno della testa calda qui qua c'era il radiatore dell'acqua ecco questo scaldava e chiaramente permetteva poi girando la puleggia ve lo dico in sintesi un po' così non sono un esperto girando questa puleggia permetteva ragazzi se qualcuno ne sa più di me mi correga eh io non vado oltre perché non vorrei dire stupidaggine però ecco faceva permetteva poi lo scoppio lo scoppio del gasolio non avendo qui la candela insomma permetteva lo scoppio allora anche perché è un diesel non può avere la candela comunque ecco si questo si arroventava e quindi incendiava il carburante per capirci allora eh lo so ragazzi molte volte per dirvi cose semplici Michele oltre a complicarle le ci mette anche molto tempo allora adesso ci rimane ci rimane da dirvi allora io vi do il mio parere se avete la possibilità di farlo e vi piace fatelo perché secondo me a giudicare da come sono fatti i pezzi e verniciati è veramente bello è veramente 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 bello secondo me è un bellissimo pezzo della collezione ovviamente vi deve piacere il modello andiamo a vedere adesso i vantaggi del servizio abbonamento allora per chi fa l'abbonamento con pagamento in carta di credito hai in regalo con la prima uscita no chiedo scusa hai in regalo l'uscita numero 3 con il primo invio perché qua mi dice l'uscita numero 3 con il primo invio aspettate ragazzi ok ok sì ho voluto solo accertarmene avete grati l'uscita numero 3 con il primo invio perché pagherete poi solo la prima la seconda uscita 5 99 perché la prima è questa quindi con il primo invio spenderete 5 99 e vi danno il numero 2 e il numero 3 dove con il primo invio avete in regalo il cappello in paglia firmato landini con il primo invio poi sempre con il primo invio il raccoglietore per i fascicoli nel secondo invio avrete la targa pubblicitaria landini questa vediamo se si vede meglio di qua questa più o meno uguale poi con il quarto invio avrete la sacca sportiva personalizzata landini questa materiale poliestere le dimensioni sono 34 per 44 centimetri circa mentre invece la targa landini in materiale metallico come dimensioni sono 24 centimetri di larghezza per 28 centimetri di altezza qua c'è scritto trattori agricoli officine meccaniche giovanni landini e figli fabbrico fabbrico c'è scritto non fabbrica fabbrico vabbè poi avrete il prezzo bloccato per tutta la durata dell'opera 10 99 per ogni fascicolo la certezza di non perdere alcun numero e avete l'assoluta libertà ovviamente di interrompere la spedizione in ogni momento mediante richiesta preferibilmente scritta o via email e gli omaggi che avrete ricevuto rimarranno di vostra proprietà allora qui ho detto tutto io direi che il video termina qui adesso farò vedere un po di cose all'interno di questo fascicolo interessanti anche di questo splendido uomo che è nato nel 1800 scusatemi ragazzi perché sto leggendo eh io non è che sono un conoscitore ahimè del signor giovanni landini però i landini li conosco come oggi voglio parlare solo di vita e capodanno e giovanni landini è nato nel 1859 allora adesso ragazzi io saluto tutti quelli che mi hanno seguito e vi ringrazio vi dico grazie anche se avete deciso di iscrivervi ringrazio i miei iscritti ragazzi che mi guardano mi supportano e mi sopportano anche allora ragazzi se avete piacere seguitemi anche durante la costruzione la costruzione no ma no ragazzi non è la costruzione l'ho appena fatta seguitemi anche durante diciamo la possibilità che do alle persone di poter leggere l'interno del fascicolo ok non andate via non andate via poi ragazzi ho anche preso la Bugatti Veyron il Titanic però questo ve lo consiglio proprio ve lo consiglio proprio andiamo allora a vedere il contenuto di questo primo fascicolo io faccio leggere a voi ragazzi se avete piacere e poi chiudo il video va bene grazie a tutti ecco qui abbiamo la storia della sua famiglia dei suoi figli sono cose importanti ed è bello che oltre al modellino ci diano questa possibilità nelle collezioni di poterci leggere anche i contenuti di come sono arrivati a questo progetto dai modelli più vecchi a quelli poi che se non sbaglio sono andate avanti fino al 1960 io sono piacevolmente preso e affascinato da da quello che sto inquadrando l'ho già letto prima ed è veramente una ricchezza di informazioni questa è l'ultima pagina eccoci qua ragazzi Michele vi saluta vi ringrazia del vostro tempo ecco qui vi do appuntamento ai prossimi video mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella così avete la possibilità di rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video mi raccomando ragazzi eccolo qua così guardate anche la playlist e non dimenticate che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per consentire a chiunque abbia veramente piacere non soltanto di vedere le immagini ma anche comprendere i contenuti verbali va bene ragazzi io vi saluto rinnovo gli auguri di un sereno nuovo anno a voi a tutti i vostri cari più cari e vi abbraccio arrivederci e a risentirci al prossimo video ciao